Ciao a tutti gli amici di Sporta Km0, siamo nella palestra di San Clemente, casa della ginnastica Petrarca e insieme a noi abbiamo il presidente Simone Rossi, accudiamo il nostro ben ritrovato perché ormai è un amico di Sporta Km0. Ben trovati a voi. Queste sono settimane intense per la ginnastica Petrarca per due motivi, il primo è quello più atteso forse, la ripresa dell'attività agonistica, la ripresa delle gare, il secondo è il ritorno in palestra anche dei corsi di base, dei bambini, dei nuovi allievi che è sempre un momento di gioia per ogni società. Assolutamente sì, dopo il disorientamento che per certi versi dura tutt'oggi dato da questa pandemia, siamo riportiti nel scorso mese di giugno e nella ripartenza sicuramente abbiamo dedicato maggiore attenzione agli agonisti. Adesso pur nel rispetto di protocolli rigorosi, qua vediamo le ragazze della ginnastica artistica femminile che stanno entrando in palestra una per volta nel rigido rispetto delle regole interne. Stiamo riaprendo le porte a tutti i nostri ragazzi. Ricordiamo un appuntamento fondamentale per la società dal 24 al 26 settembre, le lezioni di prova gratuite. Un'occasione per venire a provare la ginnastica ma venirla a provare in piena sicurezza perché requisito fondamentale sottolineiamo la prenotazione. Hai già detto te, se non sbaglio le date sono 23, 24 e 25 di settembre presso la palestra di San Laurentino però sul nostro sito, sui nostri social trovano anche i contatti telefonici che possono utilizzare. Sì, vogliamo essere aperti, aperti a chi vuole scimentarsi e conoscere questo bellissimo sport che è la ginnastica. Lo dobbiamo fare però nel rispetto sempre delle regole che questo momento storico ci richiedono e quindi potremo accogliere tutti coloro che però ci telefonano, ci contattano e quindi in una prenotazione obbligatoria perché purtroppo abbiamo dei numeri massimi che possiamo accogliere. Ricordiamo si può iniziare ginnastica a partire da sei anni e la ginnastica è uno sport talmente ricco che veramente ogni bambino può trovare la sua dimensione perché può scegliere fra la ginnastica ritmica, la ginnastica artistica, veramente ognuno può trovare l'attrezzo o la specialità in cui essere valorizzato e sentirsi protagonista? Sì, assolutamente sì. Io dico sempre che la ginnastica prima di tutto è gioia, è entusiasmo, voglia proprio di mettere in moto il proprio corpo in tutte le sue, come dire, fasce muscolari. Questo è il segreto della ginnastica che io sto scoprendo io per primo anno dopo anno. Oltre all'ingresso dei nuovi bambini il momento, l'abbiamo anticipato, è particolarmente sentito perché dopo una lunga attesa di quasi sette mesi finalmente le gare stanno per ripartire. Sì, assolutamente sì. I nostri atleti, i nostri agonisti quindi potranno anche riasseporare quello che è l'emozione che racchiude una gara ufficiale. Sette mesi di inattività, come ricordavi te, sono tanti, quindi ancora di più c'è una voglia di tornare almeno ad una sorta di normalità, quale la gara ufficiale in qualche modo richiama. Io ricordo qualche appuntamento a cui evidentemente teniamo molto. Intanto la terza prova di campionato nazionale della serie A2, con la nostra ginnastica ritmica che si terrà il 10 ottobre ad Esio. Poi abbiamo i ragazzi della ginnastica artistica maschile che saranno impegnati a partire dal 26-27 settembre nelle prove interregionali gold che lasceranno anche il pass per la fase finale che si terrà ad ottobre. Le stesse ragazze della GAF avranno modo di cimentarsi con prove regionali. E poi abbiamo la gimnestrada, la nostra gimnestrada che sta ripartendo in un percorso che le porterà poi in Islanda, nell'ambito dell'Eurogym, la rassegna continentale che riguarda quella disciplina più importante che ci possa essere. Poi nelle difficoltà, sappiamo la gimnestrada si basa su coreografie, sul contatto, e quindi è chiaro che in questo momento storico sta anche, come dire, soffrendo i limiti nel poter sperimentarsi, nel poter fare attività a tutto tondo, ma il percorso di avvicinamento è ripartito. Abbiamo parlato di sette mesi di stop, in realtà sono sette mesi di stop da legare perché l'attività vera e propria non si è mai interrotta. Avete sempre coinvolto le ragazze, prima è con allenamenti in videoconferenza, poi con un lento rientro in palestra, con tutte le precauzioni, le accortezze, l'attenzione del caso, però per gli agonisti non si è mai interrotta. Il legame con la società c'è sempre stato. È vero Marco, e ti ringrazio di averlo ricordato perché questo, quando ci ripensiamo, anche noi come dirigenza di questa società ne siamo orgogliosi, perché quello che abbiamo cercato di fare è far vivere la società anche nel periodo di quarantena. Abbiamo cominciato dando delle tabelle di allenamento a ciascuno dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze, che potevano continuare quindi a realizzare ciascuno all'interno delle proprie abitazioni. Abbiamo proseguito poi con l'attivazione di corsi online, la ginnastica per definizione si fa all'interno delle palestre, e quindi aveva in sé dei limiti, ma non ci volevamo, come dire, arrendere alla quarantena. La ginnastica andava avanti anche all'interno delle proprie abitazioni. E poi nel rispetto rigoroso di protocolli interni, senza dubbio, quanto mai rigidi, non potevamo fare diversamente dallo scorso mese di giugno, in particolare gli agonisti hanno ripreso le attività all'interno della palestra. Chiudiamo Simone con un invito. L'invito è a seguire la ginnastica Petrarca nel corso del prossimo anno, perché al di là delle gare che ci saranno sempre, la dirigenza sta strutturando anche iniziative rivolte alla cittadinanza, che per ora non spoileriamo, però c'è qualcosa di interessante che bolle in pentola. Sì, direi che ci sono cose iniziative molto interessanti a cui vogliamo lavorare, che questa è una società che deve molto a questa città. Mi piace pensare che anche la città possa in qualche modo essere esentissi legata a questa società storica, che ricordo è del 1877, una società direttantistica sportiva ultracentenaria, a quali poche ce ne sono in Italia. e quindi stiamo lavorando con altre realtà a qualcosa di interessante per il 2021. Vediamo poi con il Comune di Arezzo, con altre istituzioni pubbliche, se riusciamo veramente a scaricare a terra come ci piacerebbe. Ringraziamo il Presidente Simone Rossi e un in bocca al lupo alla ginnastica Petrarca per la ripartenza dell'attività dei bambini e per la ripartenza delle gare. Grazie.